Ma quando finalmente mi capitò l'occasione, fui assalito dai dubbi. E fu la fine della mia carriera. Ma perché? Perché smisi di crederci. E questo tu non devi mai farlo, Gico. I dubbi possono trasformare una bella mossa ginga in una pericolosa. Ma tu devi essere più forte di me, Gico. Se per caso la gente dovesse parlare male di te e di come giochi, non devi mai provare vergogna, papà. Ho capito. Va bene.